Se il tuo amico viene eliminato, il video finisce, Fortnite Duo Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore Forte così come lo vedete scritto a schermo, accettate Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti quelli che lo faranno Se il mio compagno viene eliminato, il video finisce Come potete vedere ho fatto un leggerissimo cambio di postazione ragazzi Perché per vari modifici non mi sto qui a dire con questo video, magari è un paio di giorni Infatti vi ricordo che il prima possibile torneremo alla nostra solita postazione E niente, che dirvi, il tizio cerca ancora di farmi capire che vuole andare in un'altra zona Ma non ha capito gli istinti proprio per, capito, cioè proprio per delle partite Comunque, allora, vi direi di vicarci subito questo sparabende che è sicuramente un'arma che all'inizio ci sarà tanto utile per fare tante kill Ok, cavallate a parte, mi serve subito un'arma, dov'è? Ok, no, no, mio Dio, no, mio Dio, no, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio Questa cosa non va bene, questa cosa non va proprio bene Sei l'impazzito, sei l'impazzito di tutto Ciao Mamma mia Voglia pure Sono vivo? Per miracolo, probabilmente Ok Fammi piglia a sto tavolo, dai, dai Un altro fucile a pompa che non posso utilizzare, bello Mi serve la tua arma, sei in fretta In fretta, grazie Che panico, ragazzo Stiamo incazzato il tipo che mi stai inseguendo No, 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 però non va bene Non va bene Ok Cavolo Ok Va bene ragazzi Diciamo che come inizio è un po' particolare Specialmente perché un ping di schifo mi fa arrivare le bende che mi sparo addosso dopo 20 secondi Mamma mia Sotto che sto giocando col 4G, dato che la mia linea a casa è un po' particolare in questi giorni Vabbè, insomma, ragazzi La mia casa non funziona più da un po' di tempo a questa parte, diciamo Il mio compagno sta ancora a frenzi, ragazzi Spero che non ci sia nessuno nella sua zona Così almeno non devo pensare pure a lui Anche se, rabbè, ragazzi Ovviamente se lo eliminano Cioè se lo atterrano è eliminato Diretto Senza né se né ma Mamma mia, ragazzi Tutti muri Non so cosa ho combinato qui Non so cosa ho combinato qui Come si edita Mamma mia Ho editato così bene che me lo sono dimenticato Perché mi fai di dare? Non ho capito a sta cosa Vabbè, facciamo stare Come un po' Mamma mia, ragazzi Panico, panico proprio Troppa volte, ragazzi Che azione Ah, questo è l'altra La roba di Midas No, no, no Calmi È arrivato un nemico sul tetto L'ho sentito Dai Dai, compa Spara, compa Spara, ti aiuto Dai, che posso sparma io Dai, che posso sparma io Se li riesco a flencare, ragazzi Se li riesco a flencare Se li riesco a flencare Ci divertiamo Bello Mi fermo Ok Incazzatissimo Mi fa costruire Questo è questo Medi da me Dai, un po' Dai, siamo compagni Tutto questo, no Ho capito che io sono il baby fincher Però Lui avevo fatto Nero proprio sui Vabbè Ok Ma lui che stava a fare Per sfizio Se sta a baggare Ragazzi Veramente Veramente questa cosa Finirà così Lui buggato Io ti colai Innessione Ti sei ripreso Finalmente Mamma mia Manichissimo Stanno là, frate Là, là, là Per favore Vieni da me Vieni da me Dai, che andiamo nel bunker Dai Dai No, vieni Che c'è Per miseria Vieni Quello non stava da solo Io non ho capito Se quello era un tizio normale O era un tizio particolare Sì, stanno Ragazzi, stanno arrivando Cavolo Sta arrivando gente Che brutta situazione Mi sono anche alla testa No, stanno con la barca Bello Schifo Si è fatto veramente Eliminare Sto tipo Cioè io Volevo farlo arrivare qui Per fargli un'imboscata Ma si è fatto eliminare prima Quindi Ok Terra Il mio alleato è con me No Ok Va bene bro Ce ne dovremmo andare comunque Tanto per fartelo sapere Che brutta situazione Va bene Ah ragazzi Dobbiamo andare Se non ce ne andiamo Qua finisce male Perché ok Spero di trovare gli scudi In un'altra maniera Perché così non posso giocare Da stavano pure dei nemici Oh cavolo raga La serve lontanissima La serve lontanissima No, no, no Questa cosa non finirà bene Questa cosa non finirà decisamente bene Non ha capito ragazzi Non ho capito perché Non se ne voglia andare Veramente non mi è chiaro Perché vuole fare questa cosa folle Mannaccia A te Ma ci vediamo la giampa Così carina No, perché diventa quella barchetta Alla Non mi scende Non mi scende Non mi scende Non ci voglio stare Non mi scende Come la scende ragazzi ho giocato malissimo ho utilizzato tutti i materiali che avevo tutti oh calmi mica a noi nammo nammo frate nammo mi servono materiali ragazzi però non posso andare avanti senza materiali io non l'ho capito ah vuole andare in quella zona via va bene va bene allora arriva 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 un attimo un attimo il gizzo lo vuole giocare safe e ci sto sinceramente ci sto abbiamo anche rischiato troppo in realtà durante questo game specialmente con la mossa di prima di stare tutto quel tempo nella safe cioè fuori della safe quindi ok devo fare il giro lungo prendere l'approvvigionamento va bene a me servono materiali quindi ok bro va bene stiamo bombardando il 2 è statica come cosa ragazzi sta quel team da 2 lì e poi uno lì e Migg« a me Didn' a me a me a me a a a Ok, knocked, no no no, brava mi servi, non fa cazzate, non fa cazzate. Se ci facevamo eliminare entrambi era veramente stupido, mamma mia ragazzi che partita, eh gg bello bro, mamma mia ragazzi, panico, panico, panichissimo, bella per noi, credo anche prima vittoria nella stagione 2. Musica Musica Musica